ma che cos'è ma è un colpo basso per me ma è la mia passione il motociclismo d'epoca ma sono bellissime dai sono dei gioielli buonasera Gianni cosa sono questi? queste sono moto prodotte qui a Stradella a partire dal... come qui nell'Oltrepo? qui non solo l'Oltrepo ma anche le motociclette marche autotone mi piace usare questa parola di questa zona di Stradella in particolare ardito e alpino ma sono veramente interessanti e particolari ma cosa sono? e a quando risalvono? questa è un 125 ed è stata prodotta fino agli 60 ruote basse da 14 posso inforcarlo un attimo guarda che meraviglia ma dai che figura faccio così è bellissimo si chiamava alpino perché in salita doveva camminare ma quest'altra è un ardito? è l'ardito lo stesso progettista dell'alpino fuoriuscito dall'alpino ha prodotto l'ardito ma sono perfettamente conservate quindi le amate? questa è la mia è sempre un 125 e tre marce si però è un po' più... ha il suo preservatoione... questi qua cosa sono? questi sono in dati inferiore... ciclomotori? ciclomotori questa è un 48 e queste sono le prime moto che ha fatto l'alpino sono nati con motori ausiliari e il nonno e lo zio è una specie che posso dire senza offesa di moschito il moschito... lo sapevo sono offeso... va bene... questo era l'alpino quindi qualcosa di più del moschito questa leva si agiva sul rullo e il rullo trascinava la ruota... perfetto trascinava la ruota a meno che non piovesse perché se pioveva non trascinava niente... esatto... cioè oltre all'oggetto in sé che è stupendo è l'idea, l'ideologia che c'è... questa l'hanno fatta per mettere in sella la gente normale... esatto... subito dopo la guerra venivamo via appunto dalla guerra ladri di biciclette... la bicicletta... e questa è una bicicletta in più... una bicicletta in più e questo cos'è? e soprattutto di chi è questo? è mio... e tu Daniele... cos'è? è una meraviglia totale! questo è un motocarro... per il trasporto in agricoltura, in edilizia... può portare fino a due quintali... due quintali? interessante... io sarei un quintale... quindi mi porta... ti porta assolutamente... e tu mi porteresti a Stradella perché devo andare a Stradella e arrivarsi con questo... andiamo... dai... e di che anno è? questo è del 55... 55... beh beh... si conserva bene... meglio di me... abbiamo più o meno la stessa età... posso? prego... andiamo? sei pronto? pronto... ma devi pedalare adesso... devi partire? si... ma ce la fai? bene perfetto... è partito a primo polvo... on the road per l'oltrepo pavese... e beh beh... tre ruote... è meglio che due... bene... Grazie a tutti